A Bari è una partita difficile, poiché ci sarà un pubblico caloroso e la squadra in questo momento è alterna perché comunque la settimana scorsa ha vinto un 4-3-0 con il Fosinone e adesso viene da una sconfitta. È chiaro che è una squadra che l'ultima partita ha potizzato 3-5-2 ma con le precedenti ha giocato un 3-4-2-1, un 3-4-3 però pensare che andiamo a fare una sgambata è impensabile. È chiaro che abbiamo una squadra di fronte, una squadra forte che è un po' in difficoltà ma ripeto sta sempre a noi comunque far sì che questa squadra manca in difficoltà ma sicuramente non sarà un impegno facile. Io penso che questa partita non sia una partita tattica, è più una partita motivazionale, è più una partita di determinazione, è più una partita di tener botta perché comunque è una squadra che partirà forte perché comunque il pubblico ora fa solo la partita, è comunque un ambiente non facile perché comunque nel momento in cui le cose non vanno bene non è semplice neanche per loro. E' una partita più, sarà una partita intensa, bisogna stare concentrati e attenti a non cadere errori, non andare dietro né al pubblico né dietro a delle scelte arbitrarie. Nel senso di stare a rimanere concentrati sulla partita è basta. È chiaro che all'inizio partiranno forti, poi sta a noi ritardare questa, fargli prendere coraggio oppure tenerli in difficoltà. È chiaro che mi viene in mente la partita di Frosinone che nonostante siamo passati in vantaggio il pubblico ha continuato comunque a tifare la squadra. E posso pensare che a parte i merdi dei ragazzi della squadra, a volte il pubblico si fa sentire ed è importante. Quindi ripeto, non sta a noi, noi dobbiamo far sì che lasciare da perdere tutto, analizzare, guardare un po' lo stato, sì quando si entra, è stato bellissimo, un pubblico delle grandi occasioni però ripeto nel momento in cui il fischio di inizio dobbiamo pensare solo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso con maggiore determinazione perché comunque, ripeto, di fronte abbiamo una squadra che è a gamba, che comunque ha dei giocatori importanti e che, ripeto, sta a noi non far sì che sfruttino le loro caratteristiche.